I miei ospiti di oggi Dall'Inghilterra il fenomeno musicale del momento Kaja Gugu Kaja Gugu, cinque comidabili ragazzi che hanno battuto i mostri sacri della musica internazionale Conquistando le classifiche di tutta Europa Dove sono saldamente al comando con il loro primo singolo Prodotto da un altro gruppo inglese popolarissimo, il Duran Duran La loro musica è ballabilissima, il ritmo trascinante, i suoni raffinatissimi Con Too Shy, Kaja Gugu Grazie 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 Too shy, dalle classifiche inglesi e dalle discoteche di tutto il mondo, un nuovo sensazionale gruppo, Kaja Gugu. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.